Ciao Vitro Cero Luce Rossa, so che sta registrando Allora sono qua perché vi devo spiegare questa cosa Il 25 di febbraio alle 9.30 Non ho niente da fare sinceramente, la verità è quella Poi adesso dovrei dire no che figata Non è vero, non c'è niente da fare allora Sarò qua Vedete questa 1 Varese che è la prima gara del circuito del piede d'oro Che ci sarà qua il 25 febbraio marciando per la vita 2018 Tutto questo, non per darvi questo appuntamento Perché tanto a me, come c'è io, non c'è niente da fare e vengo Volevo dire a tutti quelli che corrono sappiate che ci sarò anch'io Voi non mi vedrete fino a un certo punto Voi non mi vedrete fino a un certo punto